Per esempio a Giancarlo che è Andrea Beff, oppure a Alessandr che è l'emmiglia Andrea Beff. Ah adesso si. Insomma se anche a Bussur sentiamo un bel concertino. Allora adesso voglio intervistare per esempio. Allora Simona una recensione di quel che sentiamo in corsa. Oh santa patata. Ma che ti fai tutta la timida adesso dai. No no più di no, sei timida. Allora lei si adatta un po'. E' brava. Ma no lì era l'asciura che mi ha messo tutti l'imbellettamento. Ah di vera? Eh si è che no la trucca dura. Come cosa dici? La trucca dura mi disaria. Allora se parli un po' in sci, in ticinese magari è più facile anche per te mettersi a parlare. a fare una bella recensione. Comunque stasera l'està bellissima. L'ordella Fiorini l'ha cantata un po' i suoi canzoni. E poi è riuscì a far vedere un po' i suoi dissenti, i suoi quadri. L'està proprio, secondo me, una bella serata. Tranquilla, quieta, ma interessante. Anche per me. Benissimo. Vespeccium alla fin del mese di Marche con tu un dottor speciale. Quello dell'ansia della depressione. Si, ti te l'è già mo' vista. Facito di niente nessuno. Dici una gott. Dici una gott. Bravo. Grazie. Prego. Vedete anche questo. Insomma siamo chiamati alla biblioteca del teatro. Allora, Giancarlo, una recensione per il che. Ti piace? Ah, sì. Ah, no, no. Fiorini è grande. Mi piace tanto. Adesso devo comprare l'Iber con il CD. Ah, bravo. Quella che sostiene tutte queste cose sui per difendere la lingua. E ho capito bene che il mantuale era il mio essere dell'Ons. Ma tante cose sono precise. Ma per cambiare con Bergamasqua. Ma per cambiare. Che la parolina c'è stata congelare. Inoltre, all'Ada è più facile. Ah, sì. Ma adesso mi sai che c'è tanta differenza. Poco dal povero. Che sia delle chi o della grande, cambia poco. Cioè le No hanno incidenze secondo me più, secondo me. Manca per me. Aspetto. In Fiat, per esempio, ti piace? Le No è la roba più importante l'Adda per me. Non l'Adda, no. No, l'Adda. No, no, no. forse il discorso è che magari della banda di chi non è anche mai ciao 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 va bene insomma un video che ormai la supera i due minuti e ormai l'entra un po' in vacca allora un po' di confusione ma lei è il bel della diretta ciao 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 ciao